Vai, dunque siamo qua a casa della Warrior di Lenge, è un regnone del gruppo Animali 5 Stelle ci giungono voci di medici che dicono a vegani che almeno nel posto operatorio devono mangiare morti devono mangiare animali o sugo di morte o secrezioni di morti nonostante nell'ambito della nutrizione clinica sia iper raccomandato non mangiare grassi animali ci giungono voci in merito al fatto che pazienti del reparto oncologico poi gli portano brodo di pollo a cena ditemi voi, quante cazzo di ore hanno studiato i medici di nutrizione in sei anni? zero, infatti si vede e poi la logica sarebbe anche semplicemente una questione di logica anche senza aver studiato no perché poi i nutrizionisti sono esperti di anatomia comparata, di fisiologia comparata sanno quante proteasi, nucleasi, lipasi però per esempio il dottor calabrese mitico, grandissimo allievo di cannella dice che le mucche e il latte lo fanno lo stesso quindi secondo lui dal momento che io sono un mammifero produco latte tutti i giorni della mia vita cioè lui dice che la mucca anche se non è stuprata dagli eroenomani il latte lo fa comunque e cosa dobbiamo fare? dobbiamo farle finire il latte, questo ha detto il dottor calabrese come se fosse una... dobbiamo bloccarle il latte una balia come le balie che vanno all'infinito esatto del resto lui è allievo del grande cannella quello che diceva che si può guarire dal tumore al colon solo mangiando la carne e che siamo fatti di carne quindi dobbiamo mangiare la carne ah quindi gli avvivori sono fatti di erba i granivori sono fatti di grano i miei piccioni sono fatti di grano ah e quindi cannella è vero che è morto il mese dopo che ha detto che il tumore al colon si guarisce con la carne esatto e morto di cosa? tumore al colon ah grande cannella numero uno e numero due calabrese ci vediamo da Vespa eh esatto